Non siamo di fronte a un focolaio che è venuto fuori nelle ultime ore, sono gli effetti di alcuni casi che si sono verificati all'interno di scuole dell'infanzia e che hanno avuto una sua rapida evoluzione negli ultimi 15 giorni, raggiungendo oggi il numero di 55 casi complessivi di isolamento domiciliare. A Castiglion Fiorentino cresce sempre più la preoccupazione per i focolai scolastici e così il sindaco ha deciso di chiudere tutti gli istituti. Siamo in presenza di varianti che vengono analizzate anche nei casi di Castiglion Fiorentino. Ho assistito a un'evoluzione così rapida che non ci poteva lasciare indifferenti. Il primo cittadino ha infatti firmato un'ordinanza con la quale sospende l'attività didattica di ogni ordine grado, compresi i nidi, da domani sino al prossimo 6 marzo. È una scelta condivisa con il Dipartimento di Prevenzione della ASL che visto la rapidità della diffusione ci ha consigliato anche di assumere un provvedimento così drastico, benché estremamente tempestivo, tanto da rendere sicuramente disagio anche alle famiglie, me ne scuso ma credo che in questo momento sia il male minore. Una situazione dunque che si fa sempre più pesante in Val di Chiana. A Lucignano c'è infatti già lo stop solo per le scuole medie. Stessa strada potrebbe essere percorsa anche nella vicina Marciano della Chiana, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 14 casi e dove nei giorni scorsi era già finita in quarantena un'intera scuola. Si assiste anche a qualcosa di diverso rispetto al passato dove magari anche la popolazione scolastica pareva non risentirne. Invece adesso è l'inverso, sono i piccoli che contraggono il contagio, magari con effetti non particolarmente gravi, però dopo c'è il resto che è il contagio che si sviluppa all'interno delle famiglie e questo lo dobbiamo evitare anche nel rispetto delle persone più anziane per tutelare la salute di chi potrebbe essere anche più debole.